si è già finito si, ma... ho già fatto un po' ah, bravo è che lei? come la cosa della signora Giorgine? mi hai fatto rubire no, non ho fatto di riuscire ah no, è capitato come è capitato? è capitato? ero facendo un po' la volta a bruciare la puttacardì ah no, è capitato che non hanno fatto niente? come? oggi sono andata ah no, è capitato che stai pazzia ma perché si vengono i cazzo dell'agenda pazzia e febbra non è capitato è capitata, no? non ziti